Cari amici, dunque una settimana di polemiche, di discorsi, di 0 a 2 a tavolino, di discussioni su palloni che sono entrate e non in rete, di entusiasmo per il poker nelle nostre squadre di club nell'incontro internazionale. Poi finalmente arriva la domenica, ecco la domenica che è quasi una liberazione, un sollievo dopo tante discussioni. Una domenica di grande impegno, due squadre, lo sappiamo, al comando, il Napoli e il Milan, il Napoli che va a Bologna, il Bologna che non ha mai perso in casa, pieno d'orgoglio, e il Milan che va a Verona, ricordi a Mari di Verona, un Verona che ha bisogno dei punti. Sono le 15.30, ritorniamo un po' indietro col pensiero, a Bologna, fra Bologna e Napoli, l'arbitro Longhi fischia all'inizio, sentiamo Roberto Scardola.